un altro modello d'asta estremamente semplice io ieri parlando di strategia d'offerta ho messo il cpm il discorso di strategia d'offerta lo vedremo per bene negli altri video allora la strategia d'offerta di fatto è roas cpa cpc manuale compagnia bella faccio rientrare i modelli d'asta nelle strategie perché comunque sia fanno parte di tutto il sistema quindi questo semplicemente per i puristi detto questo se abbiamo parlato del cpm o del vcpm per essere ancora più precisi del vcpm secondo me è importante parlare del cpc all'inizio vero che poi voi i video ve li potete guardare come volete però di fatto se parliamo di cpm parliamo di cpc allora il cpc cioè costo per click c'è in due modalità in più modalità diciamo che abbiamo anzi in tre modalità c'è una modalità manuale dove siamo noi che decidiamo l'importo massimo che vogliamo spendere per un click c'è in versione semi automatica vale a dire che diciamo al sistema fai te però non spendere più di tot e c'è una versione completamente automatica che dice al sistema l'asta gestisci la te diciamo che oggi secondo quelle che sono i modelli d'asta di google ads non si può parlare di una vera e propria di un vero e proprio modello d'asta basato sul cpc meccanico cioè basato su sulla volontà del machine learning anche perché in quel caso il machine learning utilizza degli indicatori come il roas finiscono sulla spesa pubblicitaria il costo operazione la quota impression ed altri tipi di strategia per raggiungere un obiettivo che non si basa esclusivamente sulla vincita dell'asta del cpc ma si basa su tutta una serie di formule che poi nella sua testa riassume col famoso che avevamo vista all'inizio più 1 uguale q2 per b2 fratto q1 detto questo il cpc manuale come dicevamo ti consente di inserire per ogni specifica parola chiave un costo per per click massimo il sistema poi vi presenterà nella tabella un parametro che è il cpc il cpc medio quindi fondamentalmente voi dite al sistema io non voglio spendere più di questo che nel caso della forma sarebbe il b2 relazionato all'asta del secondo inserzionista il discorso è che questo cpc può comunque variare può in rialzo soprattutto se vengono inseriti dei modificatori sapete che su adwords potete andare a inserire su google ads io sono anche a scuola possiamo andare inserire dei modificatori che vanno a prendere in considerazione prendiamo quelli più semplici località dispositivo e fascia oraria quindi per esempio se io ho un cpc massimo di un euro ma ho messo un modificatore un aggiustamento di offerta su milano del più 20 per cento automaticamente il mio sistema farà un euro più 20 per cento quindi il mio cpc max non sarà un euro ma potrà essere anche un euro e venti volevo solo una velocissima digressione sul google grants google grants a un cpc massimo di due dollari che viene disatteso nel caso in cui si chiede al sistema di lavorare con una strategia di offerta a roas oa cpa in quel caso come dicevamo qualche secondo fa in realtà il costo per clic non conta perché il sistema prende in esame indicatori differenti da quello che il clic nel caso specifico per esempio analizza le conversioni quindi valutare se ingranz non sia meglio lavorare a conversione anche perché come se non sono necessariamente acquisto poi magari vedremo il discorso conversione che ipi e compagnia danzante comunque cpc manuale massimo cpc medio quanto spendiamo mediamente per quel clic modificatori aggiustamento che possono aumentare cpc massimo ci vediamo nei prossimi video